Bene, grazie e benvenuti a tutti questo incontro con Valerio Binasco e i suoi attori. E' davvero un grande piacere, anche se abbiamo i tempi un po' contingentati, ma al di là di questo è davvero sempre una bella occasione parlare con Valerio e con i suoi attori del loro lavoro. In questo caso parliamo di Rumori fuori scena, che è il lavoro che ha debuttato due giorni fa. Io l'ho visto lunedì sera, forse non era il debutto, era l'anteprima, ma insomma era il debutto, benissimo. E' in scena fino al 27 ottobre, se non ricordo male. Probabilmente siamo di fronte, stiamo parlando con voi che non tutti, immagino, abbiate ancora visto lo spettacolo. Speriamo anche che questa chiacchierata possa essere di stimolo. Rumori fuori scena, io l'ho visto due giorni fa, è uno spettacolo molto bello, molto divertente, leggero, un po' davvero leggero, un po' solo apparentemente leggero. Come tutte le cose divertenti, fatte con intelligenza, con densità di lavoro, c'è anche molto di più del semplice divertimento e di un'apparente e anche reale leggerezza. E quindi uno spettacolo molto ricco di cose, come certamente ci diranno anche loro. Io non credo sia un caso che Valerio Binasco abbia scelto di inaugurare questa seconda sua stagione come direttore artistico del Teatro Stabile di Torino proprio con questo lavoro. Perché non è solo questa l'occasione in cui stiamo parlando del debutto di un lavoro, ma stiamo anche parlando del debutto della stagione del Teatro Stabile. Ecco, io non credo sia un caso questa scelta e è anche una bella circostanza perché ci ha finalmente riconsegnato a noi spettatori Valerio Binasco in scena. Credo che lui stesso avesse voglia di tornare in scena e certamente l'abbiamo noi come spettatori, ce l'avevo io come spettatore singolo. E' stata appagata questa attesa di rivederlo in scena. Valerio Binasco è, lo conosciamo nella scorsa stagione qui a Torino come regista, ma lui è un attore che è anche regista, un regista che è anche un attore. Insomma è una figura che tiene insieme questi due aspetti in modo assolutamente stretto, intrecciato. E quindi, diciamo, vederlo in scena insieme ai suoi attori che sono meravigliosi perché lavorano in un modo particolare sul teatro come lui è capace a fare. Insomma, è un bel piacere, ecco. Partirei per chiedere subito a Valerio di entrare nel merito dello spettacolo, di magari dirci qualcosa su una cosa che lui ha scritto nel programma di sala. Quindi poi è scritta, quindi non puoi dire non è vero, non sono io, eccetera. Lui dice che con questo lavoro lui ha lasciato un po' da parte i toni più cupi e che lui stesso dice sono i toni che più gli appartengono e però in questa circostanza ha deciso di lasciarli da parte i toni che lui ha messo anche in alcune commedie che ha recitato e diretto in passato. Ma in questo caso invece il suo approccio è stato col comico Tukur e quindi io gli chiederei, poi coinvolgiamo naturalmente subito anche gli altri attori, ma gli chiederei innanzitutto perché ha lasciato da parte, ha deciso di lasciare da parte questi suoi toni che gli appartengono di più, questi toni più cupi e perché hai deciso di, diciamo, imboccare questa strada più del comico Tukur. Buonasera, di preciso non lo so, tutto quello che faccio è intriso di temi autobiografici naturalmente per cui sì, ho lasciato da parte i toni cupi che in qualche maniera però negli ultimi due anni di riffa di raffa sono entrati a gamba tesa un po' nella mia vita senza motivi particolari, però mi ero trovato insomma a fare i conti con qualcosa che non ero capace bene di sopportare e quindi dopo Amleto che in qualche modo ha rappresentato per me un faccia a faccia con delle cose personali, mi ero un po' stufato, ho detto, è arrivato il momento per me adesso di affrontare una sfida nuova che è la sfida del comico, però avevo già fatto cose delle commedie, Arlecchino è famosa per essere comicissima anche se noi l'abbiamo virata verso dei toni un po' più malinconici, la malinconia mi sembrava che fosse un po' l'elemento necessario per me e allora ho creduto che fosse arrivato il tempo per me di misurarmi con qualcosa che mi spiazzasse, mi scandalizzasse, non è stato facile per gli attori, perché in ogni caso se è vero che io ho fatto di tutto per buttare dalla finestra la cupezza che necessariamente introduco dentro gli spettacoli, anche quelli che apparentemente potrebbero essere più leggeri, tutto il nero possibile l'ho portato alle prove, è stata molto dura per loro e io in varie occasioni ho chiesto loro scusa perché a me il comico mi scandalizzava e questa commedia è una commedia che è comica al 100%, non vuole altro, cos'è una commedia comica al 100%? a differenza, che ne so, di Goldoni, Goldoni scrive delle commedie comiche ma all'interno butta dei temi che sono o di ragionamento critico sociale, non c'è mai un comico al 100%, anche quando sembra aderire di più alle regole della commedia dell'arte, ce ne siamo accorti facendo Arlecchino, parla sempre di qualche cosa che assomiglia a un dramma e quindi basta guardare il dramma ed esso appare molto volentieri e conduce il gioco senza nessun complesso. Il comico al 100% invece è un genere che vuole solo essere ciò che è, un po' come il western, il western non vuole essere molto di più che un western, il comico vuole essere solo comico. Io amavo molto, ho amato molto nella mia vita il genere comico al 100%, laddove erano per esempio Stanley Olio, laddove era il mondo delle comiche, laddove io incontravo anche con grande amore, passione, Monty Python per esempio, che però c'era un elemento di satira, e qua niente, solo questo, è solo una macchina per attori capaci in qualche modo di far ridere e lì viene il brivido, siamo capaci di far ridere? Chi fa ridere? Fanno ridere i comici, noi siamo comici? Noi siamo attori che forse possono far ridere, ma non siamo comici, cioè non ce la caviamo, non sappiamo analizzare un testo e dire qua ridono, qua ridono, qua se la dico così ridono, se la dico cos'ha ridono due minuti dopo, qua faccio una pausa, questa è l'arte dei grandi comici, qualcuno l'ho conosciuto, con alcuni ho lavorato, so che cosa vuol dire essere comici, vuol dire avere la responsabilità, la capacità, la forza d'animo di affrontare una platea sapendo come si fa a farla ridere. Quando è toccato a me, avendo io un po' deciso che la mia avventura qui a Torino ha senso per me laddove mi pongo delle sfide, e ha detto sono capace, saremo capaci? E la risposta era boh, vedremo, perché non credo a un tipo di teatro che si fida solo degli artifici teatrali. Quando io faccio gli spettacoli mi piace sempre pormi una domanda e lo spettacolo che faccio è il risultato, è la risposta, il tentativo di rispondere a quella domanda. E se ciò che io racconto fosse vero, cioè se non fosse un cartone animato, se non fosse una modalità di rappresentazione, ma se fosse vero quello che sta accadendo sotto i miei occhi, e allora deve essere la situazione, deve essere la verità delle relazioni, la verità dei sentimenti dei personaggi a farmi ridere, non quanto sono buffi o quanto sono comici, ma è comico il mondo dentro il quale loro malgrado sono precipitati. Questo ci ha posto delle difficoltà, però per me era una difficoltà affascinante, lo è tuttora molto affascinante, anche perché il comico ha un'altra legge spietata, accade o non accade. E tutte le sere noi dobbiamo essere pronti a avere il batticuore di dire accadrà, non accadrà, saremo capaci, facendo finta di niente, di risultare divertenti, perché tutto quello che chiediamo al nostro spettacolo è solo quello. Poi in mezzo, come dice Petrini, il professore Petrini, il quale è pagato per parlare bene di me, naturalmente qui su questo palco, poco credo, però qualcosa di... L'automeno, di più di me a pagarlo, quindi parla meglio ancora. Noi siamo tenuti tutte le sere a sperare che questo accada e insieme a questo accadano delle piccole gocce disperse qua e là che ci ricordano quanto la vita di ciascuno è una vita complessa, ricca, stratificata, malenconica, qualche volta, non sempre gioiosa e superficiale. Ma abbiamo il compito ogni sera di entrare in una macchina che ci impone la legge, meravigliosa, della superficialità nel trattare le relazioni, i sentimenti, i ritmi dentro i quali noi viviamo e di suscitare quella poetica meraviglia, inspiegabile, non la sa spiegare a nessuno, che è la risata di una platea. Allora, per rincarare la... No, devi dire qualcosa, aspetta, aspetta, un momento, deve andare a fare il trucco. Allora, abbiamo alcuni attori che ci lasceranno nel corso di questo incontro, perché siamo scaglionati al trucco. E quindi prima di lasciarti andare al trucco, però ti chiede... Perfetto. Oddio, ecco. Doveva farlo lui, questo, ma comunque... Non importa. Non importa. Lui ha fatto un riferimento, Valerio, alle prove in cui lui ci ha detto una cosa che noi non sappiamo, cioè che lui, come sempre, credo, nel caso delle prove di Valerio, qualche volta ha assistito, c'è stato anche un lavoro intenso, hard. Ecco, ci vuoi dire qualcosa prima di scappare? Hard è la parola nel caso di Brooke, direi. Eh, l'ho detto apposta. Sono pagato veramente agghiacciante. Pur coso. Beh, sì, è stato un lavoro molto intenso, molto bello, però anche a tratti leggero, a tratti pesante, a tratti bellissimo. Adesso devo andarmene, scusate. C'è una certa reticenza in queste parole. Allora, aggiungo, aggiungo qualcosa così vado via con la mia collega. No, 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 non parlo per niente meglio. Sì, è stato faticoso. In realtà, forse è la prima volta in cui in un lavoro di Valerio, ognuno di noi è molto diverso dal solito. E, piano piano, sto iniziando a capire che forse non è così. Che in realtà la distribuzione è come al solito giusta, solo che chiede aspetti di noi diversi dai soliti. E quindi ci siamo tuffati tutti in uno stile dentro il quale poi ci guardavamo fra di noi e dicevamo, ok, ma perché sono qui? Perché hai scelto me? Perché hai scelto te per fare questo? E in realtà, piano piano, lo stiamo scoprendo. Perché queste caratteristiche che noi abbiamo sono le caratteristiche che noi come attori abbiamo. Il mio personaggio, in particolar modo, è un personaggio che mi è stato molto antipatico all'inizio. Forse perché effettivamente ha tante cose di me. E quindi, soprattutto le cose che non mi piacciono di me, vederle così davanti a me, improvvisamente mi fanno un po' soffrire. Però è stato interessante cercare uno stile completamente diverso e soprattutto il genere della sitcom, che è un genere molto intelligente, ci è stato di grande aiuto. Abbiamo guardato insieme sitcom, film di Woody Allen, per cercare un po' uno stile soprattutto elegante. Ma questo non era difficile, perché lo spettacolo è firmato da Valerio Binasco, quindi non avevamo paura di questo. Solo che volevamo creare qualcosa che avesse un immaginario condiviso, un immaginario collettivo condiviso. Quindi, le prove sono andate fra alti e bassi, un po' come le montagne russe. Le repliche saranno forse altrettanto, perché una sera facciamo ridere su alcuni appuntamenti, una sera su altri. Ma a questo punto credo che fare ridere non sia l'obiettivo principale, almeno per quel che mi riguarda, ma raccontare la storia di una compagnia che si trova in un vero disastro. Quindi, sperando di non fare altrettanto, adesso andiamo a prepararci per non fare proprio un disastro. Grazie. Grazie a voi. Grazie a voi. Siccome sono appunto pagato per parlare bene di Valerio Binasco e dei suoi attori, rincaro la dose. Adesso ci impallano. Abbiamo un altro che tra poco... Un altro che tra poco... Allora, io gli cedo, prima di invece procedere, allora, fra l'altro vi lo dico a chi magari non conosce bene la compagnia, il modo di lavorare di Binasco, gli attori che vedete qui insieme a lui sono attori con i quali Valerio lavora molto frequentemente, cioè è una compagnia affiatata nel senso che si conoscono, come già hanno fatto capire le attrici che sono intervenute prima. Lui che deve andare via nel lavoro è l'assistente di scena. Esatto, il tutto fare. Il tutto fare che non fa moltissimo per evitare i disastri. Cerca di fare tutto nel migliore dei modi. Poi, voglio dire, è posto a una pressione tale che chiunque, immagino, sotto pressione riesce a fare dei danni. Questo è Timmy. Timmy, lui fa quello con il direttore di scena, poi è l'unico tecnico che ha questa compagnia e naturalmente nel mondo degli attori vige anche nelle situazioni psicologicamente più votate alla democrazia una spietata legge gerarchica, per cui le persone che ricevono più pressione di solito sono quelli che contano meno e vengono tartassati. E Tim, cioè il suo personaggio, è molto tartassato, è uno che deve tappare tutti i buchi possibili, ma non sono buchi tappabili, è una missione impossibile la sua. Però ci prova con candore e devozione. Che sono i pensi di questo personaggio che all'inizio ci ha fatto un po' arricciare il naso? È apparso con un fiorellino e un pacchetto di crackers. Timmy è quello lì. Come dire, con Valerio lavoriamo... Quanti spettacoli ci abbiamo fatti? Una marea? Sette, otto? Che per me sono tanti. Io so quello che lui... Cosa gli piace? Lo so, uno è abituato a sentire... Perché è come una tavolozza, un pittore con la sua tavolozza sa quali colori lo affascinano. E quei colori lì piano piano affascinano anche i pennelli, cioè noi. Quindi all'inizio... Commedia, commedia... Io ho detto, forco, Valerio a Commedia la odia. Ma ah, ma i clown! E quindi ho cominciato a ritirare fuori i miei pennelli da clown. Che si cozzavano, perché poi la difficoltà è anche combattere con quello che è il controsenso. Cioè un giorno è una cosa, il giorno dopo è un'altra. E quindi il clown si riempie di tutte queste contraddizioni e piano piano, piano piano, lavoro lento di costruzione. Ad esempio, io ho sempre lavorato con qualcosa che mi allontanasse dalla mia figura, cioè allontanasse il mio aspetto quotidiano e gli riportasse in scena immediatamente qualcosa di diverso, un po' più buffo. Quindi abbiamo cominciato ad utilizzare una cuffia grande, molto grande, mi facevamo una testa un po' grossa. E poi piano piano questa cuffia, che alla fine era diventata come la copertina di Linus, non riuscivamo a toglierla. Perché immediatamente quell'immagine e quella leggerezza che dava con questa testa, tipo un palloncino che lo muoveva, era talmente forte che non riuscivamo più a staccarcene. E quindi un giorno è arrivata la proposta di avere una bella parrucca con dei dread giganti, questa testa, che voi non potete immaginare che fatica è portare quella testa là. Cioè, perché peserà un chilo e mezzo, ma veramente, cioè la testa se la lasci, ti casca. Però in qualche modo ha sostituito questa cuffiona, poi gliel'abbiamo anche incorporata, gliel'abbiamo buttata dentro. Poi c'è stato un giorno che mi ha fatto vedere una corsa, ma una corsa è stata semplice. Allora c'è Poppy, che è lei, che lui ne ha attratto, ma è un'attrazione, una sorta di amicizia. Un'amicizia, magari anche, forse ci sarà qualcosa di più, non lo so. Però intanto è una bella amicizia, perché sono entrambi fuori dallo spettacolo. Osservano questo mondo di gente strana. Un giorno mi fece vedere questa cosa qui, lui dice, non so, fai tu, perché poi lui dice, sei un giocatore libero, fai un po' quello che vuoi. Se non mi piace te lo dico, se mi piace non ti dico niente. Quindi provate a immaginare, no? Ho fatto bene, ho fatto male, non so. Però un giorno mi fece vedere questo. Cioè, lui dice, guarda, Timmy, secondo me è questa cosa qui. Hai preso un fiorellino, andò alle spalle di Poppy, glielo buttò lì e corse via. Ho detto, in quella corsa lì, in quel strano rapporto che sembra affetto, ma è dolcezza, però è un gioco. Allora ho detto, eccolo, vedi? E poi c'era un'altra entrata, che un giorno avevo delle patatine. Ho detto, ma sì, entro mangiando delle patatine. Cioè, si è assentato, è andato a mangiare qualcosa, questo povero disgraziato, ha 48 ore che lavora. E quindi lui un giorno mi vede arrivare questo po' di patatine, mi dico le battute, gli dico, vuoi mangiare un po'? Allora, e da lì è nato questo scogliattolo che incontrate quando correte nei parchetti qua a Torino, che è pieno. Basta, questo qua. Vai a diventare? Sì, devo andare. Grazie. Signore e signori, che discena. Grazie, che discena. Valerio scrive sempre in questo programma di sala, che però si capisce anche vedendo lo spettacolo, che c'è un lavoro sul ritmo, molto attento, molto evidente, più che sulla concitazione, lui dice, che è una bella differenza, perché è un testo che si potrebbe pensare che è tutto giocato sulla concitazione di questi movimenti. Però in realtà, appunto, lui sottolinea molto giustamente il ritmo, la ricerca e il lavoro sul ritmo, che credo sia stato un lavoro anche faticoso, delle prove. Sì, va bene, quando si parla di cose comiche, si parla sempre di ritmo, perché basta sbagliare di poco il ritmo con cui una scena viene suonata e risulta brillante e non comica. E poi dice, ah, è carino, però non suscita mai quell'esplosione. Quindi il ritmo è molto difficile, si sa, ogni sera si suona, facciamo una specie di jam session jazzistica, si parte, sappiamo che il ritmo è sostenuto e ogni sera ce lo inventiamo un po'. Poi io ho tre edizioni diverse dal vivo dei Dire Straits che suonano, saltano, swing, e sono tre ritmi diversi. Uno, è sempre la stessa canzone, c'è sempre Mark Knopfler che fa il suo assolo di chitarra, il ritmo più o meno è quello, però c'è delle volte che è un po' indietro e non è tanto brillante. Altre volte è più avanti del dovuto, altre volte è quella giusta, ed è, sono i Dire Straits, cioè non stiamo parlando di qualcuno che ci prova, ci stiamo parlando di qualcuno che ci riesce. Però il ritmo non si sa mai, soprattutto dal vivo, un po' come viene, viene. Quindi, a parte il ritmo tecnico della comicità, che quello sappiamo che cos'è, è una commedia che, sono tre atti, dove avviene sempre la stessa cosa nel corso, tutte e tre le volte, ma tutte e tre le volte sono, gli attori che rappresentano questo atto unico, sono assoggettati in maniera tirannica al dio del tempo. Cioè, nel primo atto hanno pochissimo tempo per fare una prova generale e il tempo corre e gli incidenti non gli permettono di concluderla. Nel secondo atto ci sono un sacco di problemi personali fra gli attori, ma non riescono a svilupparli, non riescono a farli diventare drammatici, perché c'è lo spettacolo che sta svolgendosi alle loro spalle e che diventa lui lo spettacolo, il padrone del tempo con cui loro possono discutere, avere i loro problemi e affrontare i loro drammi personali. Quindi tutto ciò che noi vedremo è assoggettato al tempo dello spettacolo. E poi c'è il terzo atto, dove è passato molto tempo, ci sono un sacco di incidenti in scena e gli attori devono riuscire a cavarsela nel tempo limitatissimo della rappresentazione. Cioè, non hanno il tempo di poter aggiustare le cose, perché devono stare necessariamente dentro al ritmo della rappresentazione, mentre accade intorno a loro ogni genere di disturbo e di incidente. Quindi è evidente che lavoriamo con una commedia che ci impone a un certo momento di entrare in apnea e di lottare contro la concitazione. La concitazione avviene quando gli attori non sono ancora abbastanza padroni di quello che fanno e vogliono restituire il risultato. Il risultato quindi... perché vogliono... fanno quello che viene percepito, ma quello che viene percepito non è la concitazione, viene percepito come concitazione. Ma l'attore ora deve fare con molta calma un esercizio... deve fare l'esercizio di fare una cosa per volta. Se c'è una scena dove le persone parlano molto velocemente rubandosi la parola, sono le scene che dobbiamo studiare di più, dobbiamo essere molto precisi nel farle, molto attenti alla musicalità, alla proposta dell'altro. Quindi internamente deve calare una calma fantastica, difficilissima da raggiungere, e allora riusciremo a suggerirvi l'idea della concitazione. Ma se noi siamo concitati, vi suggeriamo solo un gran casino. Quindi questo è molto difficile. La commedia sembra concitata, ma noi dobbiamo suonare una nota per volta. Questo è stato il difficile, lo è ancora, ci vorrà un po' di tempo perché noi potremmo diventare bravi a suonare questa musica veloce senza sacrificare le note o senza scivolare stupidamente sulla tastiera. In questo ridere del meccanismo teatrale a cui questo testo, questa commedia ci chiama, c'è, io credo però, lo chiedo a voi, c'è una risata semplicemente divertita, leggera, che loro riescono a far scaturire agli spettatori, poi probabilmente dipende dalla serata, quando l'ho visto io, questo era molto presente, questo passaggio fra attori e spettatori. C'è questo elemento di leggerezza, di divertissement, molto bello, molto piacevole, molto goduto come attori, che è una cosa che come spettatore io trovo sempre molto bella, molto interessante. Poi, probabilmente, anzi, io penso che ci sia anche un altro livello, un altro modo di entrare nelle pieghe di quello che viene fatto. Per esempio, in un certo, nella parte finale, mi sembra, della commedia, continua a dire le battute che ha studiato a memoria anche quando la situazione è cambiata, tipo non ci sono gli oggetti che indica la situazione un'altra. Ecco, in questo elemento, che è chiaramente comico, comicissimo, da Staglio Olio proprio, c'è anche poi, credo, qualcosa di più, nel senso che poi, spesso, più spesso di quanto siamo indotti a pensare, attori non bravi dicono le battute, anche quelle giuste, ma come se fossero sbagliate, cioè non sono nel posto in cui è l'attore, il personaggio. E io credo che, per esempio, in quella modalità di Brook, che è nel testo, ma che loro fanno in un modo particolare, ci sia, per esempio, anche questo livello, diciamo, molto divertente, ma di un divertimento più, anche più gustoso. Sbaglio? No, non sbagli, mi piacerebbe che le dicesse qualcosa su questo. Andrea, che è il partner di Brook, sono una coppia e agiscono insieme, e quindi tu e lei siete... Sì, è difficile perché ci sono... Capito no? Capito no? È la battuta che dice continuare. Sì, esatto. La cosa difficile, per esempio, c'è un momento nel terzo atto in cui ci sono delle sardine sparse per il palco, perché il mio amore Dotti lascia lì, non dovendolo fare, e alla fine lascia a me la responsabilità di pulire durante l'APS il palco di sardine e unte. Mi rendo... E lì è successo, durante le prove io avevo un oggettivo problema, cioè riuscire a dare in poche battute una serie di lavori, compiti che mi dà questo disgraziato che ho vicino, per cercare di dare un senso a quella scena lì, e oggettivamente io avevo bisogno di Brook, perché la battuta è dico, vabbè, ci pensi tu al... Capito no? E io intanto porto sulle... Capito no? E lei ovviamente continua ad andare avanti con le sue battute, perché è oggettivamente impossibilitata a fare qualunque altra cosa che non siano il personaggio di Vicky... No, di Brook, perché Vicky è l'attrice, e Brook è il personaggio. E io in quel momento lì avevo bisogno... Sì. No, Vicky è l'attrice, Brook è il personaggio. Va bello, non glielo fregare. No, è vero, hai ragione. No, hai ragione. È vero, ci si capisce un bellino. Di Torino, lo sentite? E lì, oggettivamente, avevo bisogno di Francesca, che è lei. Ma non poteva farlo. E la cosa interessante era quanto Valerio mi chiedesse, poi una cosa piuttosto semplice a dirsi, molto difficile a farsi, cioè di parlare realmente, di chiedere realmente aiuto, in una situazione allucinante, assurda, come quella che porta questi rumori fuori scena, ad una persona che apparentemente, se uno la legge, parla di una persona lobotomizzata, cioè ripete le sue battute e basta, e cercare di comunicare con una persona che a occhi ti diceva non mi chiedere più di questo perché io non posso, ma con le battute è stato difficile, e infatti non credo di esserci riuscito. Ci è riuscito benissimo. E no, no, questo, di quando dicevo, cerchiamo di salvare quello che è, più che un'apparenza, è la sostanza amorevole e sempre estruggente di quello che è la vita umana, nei rapporti umani. Brooke è una ragazza che fa l'attrice, che in scena viene spogliata, sta tutto il tempo in mutande, ed è quella che fa, per esempio, molte gaffe perché non riesce, non è spigliata abbastanza da poter improvvisare. Di solito che cosa si dice? È un'oca, è un'oca stupida, quindi ripete a macchinetta. In realtà, se uno dice, ok, questa è la tipologia di riferimento, ma è anche un dramma. Questa non riesce, dice, io non voglio improvvisare. Sembra a me quando giocavo a pallone, che dicevo sempre, non passate, ma non passate, ma non passate. E lei è uguale, cioè non passarmi mai la palla dell'improvvisazione, perché io non voglio e non so improvvisare. E lì è molto bello, quando noi riusciamo a raggiungere uno strato ancora più in là, rispetto a quello che propone l'autore, perché non è per niente un'oca, è semplicemente un'attrice in grave difficoltà che dice di no con la testa, mentre dice, io posso solo dirti le battute e non di più. Ed è fantastico, perché poi la coppia loro prevede invece lui un attore molto assertivo che implacabilmente è convinto che lei prima o poi lo salvi, ma non lo salva mai. E questo è molto divertente. Ed è però non affidato a tipologie teatrali. L'oca e l'uomo maschio alfa, tutte e due sono disperati, non sanno come uscire da una situazione impossibile. E se riesce a venire fuori un goccino di umanità da dentro queste tipologie, piuttosto segnate dalla tradizione teatrale e comica inglese, io sono molto contento, perché se c'è una ragione intima che mi ha spinto a fare questo testo, è perché io avevo una gran voglia di raccontare il mondo degli attori, ma possibilmente senza passare da Pirandello, che non ci ha capito niente, secondo me. Passo la pallola a qualcuno. Quindi stiamo scoprendo, cosa che probabilmente avevamo già capito, ma insomma stiamo scoprendo che c'è appunto un livello sotto questa comicità espansa, qualcosa di più, anche complesso ovviamente. Per esempio lui fa regista. Sì. Recita il regista. Allora, soprattutto, questo è evidente sempre, ma nel primo tempo questo è particolarmente... No, beh, ci sei anche dopo, ma diciamo, ti ricordi come funziona... Eh, bisogna dargli i chiedi scena anche a lui. Io da spettatore, ogni tanto guardandolo, non sapevo se era Lloyd, si chiama Lloyd il tuo personaggio, o se era Valerio, e credo che volutamente e inevitabilmente queste cose si mescolassero. sarebbe interessante sapere da lui come è il regista in scena, in questo senso, e anche loro, quando tu gli interrompi... Io molto mi accanisco con due persone, mi accanisco con Poppy, che è la mia assistente, che è un'altra declinazione, no, di una... non un'oca, ma di qualcosa che comunque... Ah, oddio, me ne vado! No, all'ultimo! No, però, diciamo, si stenta ogni tanto a capirvi voi due, giusto? Ho detto proprio, ho detto a sbagliare. Non lo so, ma i paesi fogli che ne parlino loro. Io mi accanisco particolarmente con la mia assistente e con la prima attrice. La prima attrice è Milvia Marigliano, alias Dotti, alias Clacket. queste tre identità sono molto... pian piano si scecherano finché nel terzo atto compaiono tutte e tre contemporaneamente. E io mi accanisco molto con lei e con lei. Quindi facciamo parlare loro, che qual è il loro rapporto con quello che lui ha detto, che non mi ricordo più, che però riguarda... Con il regista? Avere il regista? Lui è Valerio Binasco e Lloyd, tutti e due insieme, immagino? Beh, Valerio Binasco è più duro di Lloyd, a volte. Quindi è più duro, giustamente. no, non lo so, non... cioè, è una commedia, quindi è chiaro che Lloyd non può fare il lavoro che abbiamo fatto alle prove di approfondimento e quindi è solo assaggiato, no, il rapporto regista-attore. Quindi, no, insomma, non mi fa effetto, insomma, parlo con lui e siamo talmente, almeno io spero di essere talmente un'altra cosa rispetto al mio personaggio, impazzito, che quindi mi relazioni in un'altra maniera rispetto a Milvia e alle prove quando, no, stiamo ore e ore e affrontiamo. Quindi, non mi fa effetto, o forse non mi fa effetto perché è lui e quindi, anzi, sono contenta io che sia lui a fare Lloyd, nel senso che mi sento anche protetta eventualmente qualsiasi errore. È colpa sua? no, a parte gli scherzi, insomma, mi sento protetta, però non ho avuto il trauma, odio, o il regista in platea. È naturale per me, no, il regista che sia lì a guardarci e a dirci le cose e quindi mi piace così che ci sia questo rapporto con lui però appunto non è che non sono traumatizzata ad avere tutte le sere in scena il regista che poi è il regista anche perché anche lui è un comico alla fine come noi e quindi è chiaro che non tutto ciò che riporta ha una serietà come quando Valerio prova che sia nel comico o nel malinconico approfondisce ben altri temi qui anche lui è soggetto a dover risolvere le cose o per Freddi o per tutti in maniera anche tra virgolette buffa e quindi questo è chiaro e quindi quindi non ti spaventi non mi spavento mi piace di avere proprio lui in scena mi sento un acrobata con la rete sotto i piedi cioè a me piace tanto avere il regista in scena quindi non che cosa che cosa devo dire lui ha fatto un intervento dicendo che io faccio il regista che si confondono un po' i ruoli ecco sì perché sei un'oca esatto allora e che sono un'oca poi esatto e il ruolo di poppy in realtà cioè in realtà il ruolo di poppy è un ruolo che è molto staccato rispetto a al resto della compagnia perché è un personaggio che come mi aveva detto Valerio è un personaggio che c'è ma non ci deve essere cioè non deve essere ingombrante e io quando Valerio mi ha proposto questo ruolo ero molto contenta perché per la prima volta avevo la possibilità di non sentirmi così tanto responsabile in scena e quindi siccome avevo passato un periodo di grande disagio a stare in scena questa possibilità così grande che mi offriva Valerio sapevo che mi avrebbe sicuramente risolto un sacco di problemi che avevo avuto in altri spettacoli ed è successa una cosa un po' curiosa perché nel momento in cui ovviamente tutti gli attori veri che lavoravano con Valerio erano stati un po' tutti mandati in crisi da lui io ero l'unica che era così contenta di fare questo spettacolo così contenta di seguire le prove e così fiduciosa in tutto quello che lui proponeva e quindi credo che ad un certo punto sia diventata Poppy perché alla fine Poppy è da subito quella che ci crede più di tutti tanto che anche dopo che scopre di essere incinta di Lloyd si ferma si ferma e continua a rimanere nella compagnia e alla fine salva lo spettacolo più o meno come crede lei e quindi ci crede tantissimo e quindi io e ringrazio Valerio di avermi dato questa possibilità di essere quello che io avrei voluto essere dopo aver avuto le mie crisi ovvero mi sarebbe piaciuto starmene nell'ombra e fare l'assistente alla regia non più l'attrice e lui mi ha dato questa possibilità di essere attrice però fare l'assistente alla regia e quindi un po' così questo intanto se qualcuno vuole abbiamo ancora due attori che non parlano sì no 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 certo ma non stavo non stavo non stavo stavi proprio scusi c'è un sacco di cose da dire bene allora noi ascoltiamo c'è qualcuno che vuole intervenire non ancora adesso si scaldano così stiamo qui fino alle 8 di sera che voi non dovete andare in scena quindi quindi per esempio potrei chiedere all'intellettuale della compagnia come si capisce anche in scena per te lui è una sicurezza come ha detto lei cioè il regista è una sicurezza o o è un pungolo nel lavoro il regista il regista nel lavoro il regista Lloyd no no il regista Valerio Binasco nonostante gli anni e i tanti anni che lavoriamo insieme non è una sicurezza è un continuo è un continuo la capacità di continuamente di destabilizzarmi ci casco sempre nella nella rete dell'impossibilità della difficoltà dell'insormontabilità e mi cacciano i guai poi da solo perché sono disponibilissimo a a trovarmi da solo nella giungla ad affrontare i leoni le bestie per cui anche in questo allestimento che apparentemente sembrava lineare facile tutto quanto abbiamo attraversato momentacci sembrava veramente anzi io posso dire che è stato sorprendentemente lo spettacolo allestimento più difficile che io credo che io abbia mai fatto tanto stupido quanto difficile le due cose sembrano inavvicinabili invece è proprio così proprio per le ragioni che sono state tirate fuori e cioè il comico per il comico che pretende di di superare la necessità di raccontare delle storie di persone per ottenere soltanto il risultato finale cioè far ridere far ridere far ridere far ridere tanto che posso dire una cosa a proposito di questo magari scantonando la domanda che mi hai fatto e cioè che io ho visto una versione di rumori fuoriscena in teatro e quella cinematografica famosa grazie popi e la versione la versione teatrale era filo amatoriale perché come dire in qualche modo questa è una commedia che possono fare tutti perché non è apparentemente non è difficile da fare e questa compagnia io credo che se ricordo bene faceva più ridere di quanto facevamo ridere noi so che non è bello da dire gli altri che c'è il risultato quello che conta e tutto quanto faceva più ridere però faceva ridere in un modo che non come dire un quarto d'ora dopo ma l'istante dopo aver esaurito la risata finale quasi non ti ricordai più neanche di essere stato in quel posto lì a vedere uno spettacolo come dire come non so passare una serata dove ci sono delle persone spiritosissime che raccontano una barzelletta dopo l'altra non ti ricordi nulla della serata praticamente come se non avessi incontrato nessuno hai riso tanto dell'italiano del giapponese del francese che fanno a perdere la loro esistenza dietro qualche cazzata però non ti ricordi nulla degli esseri umani e il tentativo invece di metterci dentro degli esseri umani e quindi delle situazioni e delle personalità e delle storie d'amore e combattere per quanto possibile con un testo così meccanico ha scombussolato tutte le prove perché questo ha fatto girare le scatole a Valerio questa insopportabilità del risultato e quindi ha invertito la rotta e noi che pensavamo andare ai diritti verso qualcosa di facile veramente ci siamo trovati tutti quanti a non capire e io credo che ancora adesso non è che abbiamo capito veramente tanto proviamo a fare qualcosa mettendo insieme anni di esperienza e sicuramente devo dire sicuramente vale una cosa fondamentale cioè che avere una dimestichezza con le persone con cui si lavora rende tutto anche l'insormontabile però lo rende più facile perché come dire si saltano tanti livelli di presentazioni di smancerie di difficoltà di linguaggio no il linguaggio è un linguaggio comune allora basta cioè la regola è questa basta avere un pazzo d'umore cupo che odia la commedia comica facile e starci dentro soffrendo anche come dei cani in una pastoia e poi però no voglio dire poi concludiamo il ragionamento perché se no sembra un disastro e poi porca miseria arrivare finalmente col terzo personaggio fondamentale il quinto il sesto non lo so però l'altro anzi il coprotagonista di questa vicenda che è il pubblico e dire ah sì ecco tutto questo ne è valso la pena perché effettivamente forse abbiamo raggiunto il doppio risultato la commedia comica è rispettata fa ridere tanto e magari questo lo diranno chi coloro che vedranno lo spettacolo e coloro che l'hanno visto magari si salva magari rimane qualche cosa anche usciti fuori magari abbiamo raccontato qualcosa del teatro dei rapporti umani del teatro e via discorrendo valerio dice che questi personaggi non hanno senso di colpa no ma non lo chiedo a te non lo chiedo a te infatti no chiediamo a Sersdom nel senso che uno dei personaggi credo sono tutti hanno tutti questa caratteristica così così no così li ha impostati valerio così pensa ha pensato al lavoro valerio uno dei personaggi fra di loro decisamente più interamente comici è Sersdom e quindi è il personaggio che forse in modo più più chiaro evidenzia questa assenza del senso di colpa e io chiederei a lui di parlarci di questo puoi dire quello che vuoi non devi dire sì è vero quello che hai detto sicuramente non prova nessun senso di colpa sono personaggi leggeri a cui non appartiene il senso di colpa certamente però fa riflettere il fatto che è un personaggio che porta in evidenza una cosa che la comicità maschera molto ed è il problema dell'alcolismo perché quest'uomo è alle ultime tappe della sua vita forse è l'ultima rappresentazione che farà perché poi chi lo scritturerà più così credo che valga anche per lei per Dotti che a un certo momento esce di testa quindi siamo al crepuscolo di due carriere in cui fa ridere a volte vedere gli scherzo sulla bottiglia ma sono c'è anche qualcosa di amaro di drammatico in questo e che altro posso aggiungere basta grazie dici tu qualcosa Valerio su questo faccio una domanda arriva là c'è un palco sì di là non sentiamo dategliene uno che funziona grazie di ascoltarmi io volevo fare una domanda al regista so che questa piesta teatrale è recitata sopra un copione ma io le domando questo se un attore non si ricorda una battuta può capitare lei lascia spazio all'improvvisazione durante il tuo spettacolo o si arrabbia va su tutte le furie questo visto che è un po' il regista lo spettacolo volevo sapere questo allora no io sono l'attore che si sbaglia molto in questo spettacolo per ora sono io io non le so tutte bene le battute piglio fischi per fiaschi e loro sono molto bravi a coprirmi a inventarsi delle cose per coprire i miei buchi che ogni tanto proprio dico delle cose vedo che mi guardano e mi dico oh ma che fai quindi sono io io adoro quando gli attori inventano ovviamente vado su tutte le furie ma non è vero mi hanno descritto così cattivo che mi serve di deludere adesso però non è vero no mi piace molto quando gli attori inventano credo che gli attori sanno di avere due armi a loro disposizione la prima arma è che abbiamo studiato bene il testo il testo non è quello che dice l'autore è quello che dopo essere passato attraverso di noi è rimasto di ciò che ha scritto l'autore e a volte è rimasto molto in questo caso abbiamo salvato tantissimo quindi loro sanno che è un'arma importante noi sappiamo che più ci avviciniamo al testo più siamo difesi al tempo stesso gli attori me compreso sanno che hanno anche a disposizione l'arma di staccarsi dal testo è un po' come un nuotatore che si stacca dalla riva dove va non lo so lo sa lui io ho fiducia seguiamo però non è che io chiedo che si improvvisi tutto così come non chiedo che sia come fa Brucca a un certo momento che dice solo imperterrita le battute del testo amo le improvvisazioni così come amo quando il testo sembra un'improvvisazione quello è il risultato più bello e poi non vado su tutte le furie no? uffa uffa posso raggiungere su questo? no mi viene in mente questa cosa con un ragionamento essere tutt'uno con la comicità stupida non è di questi non può essere di questi tempi mi viene in mente questo forse quando è stata scritta questa commedia oppure quando venivano scritte io non è che le conosco benissimo però quando venivano scritte quelle commedie i vaudeville che hanno avuto un grande successo in Francia da cui sono partite in un momento evidentemente in cui la società borghese aveva voglia di essere spenserata e divertita e completamente dimenticarsi di qualunque sofferenza perché le sofferenze praticamente nel loro mondo non esistevano più probabilmente avevano bisogno così come desiderava Frain invece quando ha scritto questa commedia avevano bisogno di qualche cosa che facesse ridere punto e basta dove gli attori gli interpreti fossero delle maschere un po' stupide comiche senza domandare nient'altro da se stessi probabilmente in questa epoca qua fare questo non è più possibile perché non è un mondo spensierato questo e allora probabilmente fare un testo come questo oggi è inutile elencare le numerevoli cose che ci tormentano non che accadono e basta che accadono e ci tormentano fare un testo come questo significa in qualche modo naturalmente nulla di questo traspare nella commedia però bisogna farsi carico anche un po' di questo cioè non sono persone stupide idiote con il sorriso ebete sulla faccia che fanno ridere facendo scoprendo la moglie in camera con l'amante o essendo scoperti a fare altre cose no sono delle persone che hanno un certo livello di sofferenza dentro come siamo noi e siccome noi siamo persone tutti esseri umani che anche nelle giornate più buie riusciamo a ridere anche questi anche queste persone i personaggi gli attori di questa commedia sono probabilmente più vicino a quello che siamo adesso in questo modo io mi spiego il fatto di aver voluto un po' rivedere entrare dentro questa commedia e portarci qualcosa di più di noi dentro il vaudeville insomma non so se sono stato chiaro sei stato chiarissimo fra l'altro devo dire che io mi ritrovo molto in quello che lui ha detto cioè credo che sia una lettura molto precisa di quello che accade in scena e io trovo che il fatto che Valerio e loro recitino un testo così sia un'operazione particolarmente intelligente e acuta adesso appunto qui rincaro la dose no ma lo dico è quello che penso assolutamente cioè sarebbe più facile metterci un po' di pensosità di intellettualismo appiccicarlo su un testo e metterci un contenuto che passa è più facile invece lavorare su questa leggerezza con questa intensità d'attore che loro hanno che è meravigliosa e allo stesso tempo oltre a farti ridere perché si ride bene e piacevolmente allo stesso tempo c'è questo questa cosa che tu dicevi che anche lui diceva prima Contri cioè questo elemento invece più amaro più che Valerio nelle sue noti di regia tende un po' in qualche modo a mitigare ma credo giustamente però c'è c'è ci ho provato non è vero che era facile fare come dici tu speravo che lo fosse ho provato a dire ok ci metto le mani dentro lo trasformiamo in un'altra cosa no non è possibile i testi scritti ci sono dei testi che sono dei capolavori questo è un capolavoro non c'è niente da dire cioè proprio sarà no ci può come dire in qualche maniera suscitare un po' di perplessità dire che è un capolavoro un vaudeville come questo che poi è un vaudeville contemporaneo un vaudeville virato su temi contemporanei però lo è e i capolavori sono solidi sono arroganti è difficilissimo entrare in più un capolavoro che si basa su quel tipo di teatralità che prevede la macchina proprio come ha inventato Feido mettere le mani dentro Feido è impossibile io ho fatto anche Feido in passato l'ho fatto con con Fabrizio Contri ed era ed anche lì ho avuto gli stessi problemi mi sembrava che si potesse aggiungere molto a ciò che si era inventato Feido per renderlo un pochino più per avvisarlo che nel frattempo la psicanalisi aveva avuto successo già c'era ai tempi di Feido ma sembrava una roba transitoria no no ha avuto successo ha avuto successo se si può ridere e piangere contemporaneamente volevo aggiornarlo che nel frattempo c'erano stati Beatles ma niente era impossibile la macchina di scrittura di Feido che è uno scrittore di capolavori e la macchina di scrittura di Frane che è un erede di Feido indubbiamente hanno reso impossibile il gioco parte della mia rabbia e scontrosità nei giorni delle prove dipendeva anche dal fatto che non riuscivo a entrare non riuscivo proprio a entrare potevo entrare solo come ospite di questa commedia e non da padrone di casa e questa è una sensazione che mi ha fatto soffrire ma voglio dire sono abituato per mestiere facendo anche l'attore e quindi sono uno che si trova nelle mani un oggetto e dico ok questo oggetto è solo un oggetto o è qualcosa di più c'è qualcosa cosa ci vedo perché se in un bicchiere vedo un bicchiere siamo capaci tutti se in un bicchiere vedo qualcos'altro che ci sorprende allora è lì faccio il mio mestiere trasformo il bicchiere in un'esperienza diversa ok ho questo testo ho questo risultato ho questo mondo che mi aspetta che è il mondo della comicità pura ma che cos'è alla fin fine poi tutta la superficialità necessaria se io faccio come mi suggerisce Nicola metto sullo sfondo o di fronte a me nel paesaggio il mondo nel quale vivo allora mi devo mi devo domandare anche qual è la funzione del teatro ma non me lo voglio chiedere lungi da me questa domanda a me la funzione del teatro è farmi vivere basta lo so egoista e brutto da dire ma non mi posso porre il problema di in che maniera la platea che ho davanti a me non è il mondo è una piccola parte di mondo che viene a teatro piccolissima parte di mondo che viene a teatro mi sta chiedendo di restituire qualche cosa sono venuti apposta hanno parcheggiato magari hanno litigato è difficile venire a teatro non è un'esperienza facile il fatto stesso che vengano è già un segno di civiltà importante per me di scambio importante il mio alla mia analisi di quello che è e il compito del teatro si ferma lì in questo non sono reazionario sono semplicemente un bambino con la bocca aperta so in che mondo vivo e so che il mondo nel quale vivo in qualche maniera echeggia nelle cose che faccio ma non dipende da me dipende che io sono profondamente contemporaneo i miei spettacoli sono contemporanei ma non voglio dare la mia opinione sul contemporaneo ma dico semplicemente questo un testo che decide che per essere quando parlo del senso di colpa è che io per entrare dentro il mondo di Freyne o di Feido devo rinunciare a giudicare quello che faccio e soprattutto metto in scena un tipo di comicità che ci può stare sulle scatole perché ha una definizione molto pericolosa che è la comicità borghese la comicità prima era popolare cioè cosa ci faceva ridere ci faceva ridere il villano che storpiava le parole che diceva no prendeva fischi per fiaschi che si sedeva sulla cacca che gli voleva mangiare cioè c'è una frase di De Filippo che dice il comico è fatto di miseria quindi il comico era popolare ciò che faceva ridere era il campagnolo che andava in città quello che faceva ridere oppure diaretale come dire invece arriva un genio un giorno che si chiama Fedot forse perché vive nella belle époque naturalmente i romanzi scritti nella belle époque sono anche intrisi naturalmente di profondo dolore per la vita è l'epoca che ha creato la prima guerra mondiale e si inventa la comicità borghese cioè i borghesi non sono mai stati sono stati oggetto di derisione ma non erano mai i comici non era il clown bianco a far ridere l'Augusto che fa ridere che è il personaggio del popolo per la prima volta i borghesi fanno ridere perché fanno ridere devono pagare un prezzo per far ridere però i borghesi e cioè devono rinunciare a una parte di coscienza per far ridere devono mutilarsi di una cosa che aggrava l'intera società cioè noi devono mutilarsi della percezione del senso di colpa perché non gliene frega niente di nessuno devono mutilarsi del senso di responsabilità che ci aggrava pesantemente ma questi proprio non ce l'hanno è tutto un mondo dove si scambiano cioè è un mondo dove la vita di famiglia viene trattata in maniera quasi pornografica nei suoi contenuti superficiali cioè è un mondo che ci fa ridere e inventandosi una tecnica di comico è quello che interessa a me perché poi a me del mondo non me ne frega proprio niente quello che mi interessa è in che modo questo diventa recitazione che è la tecnica si chiama del understatement cioè che si sintetizza nel fare qualche cosa in tono minore dando per buono ciò che è assurdo dando ospitalità in maniera assurda all'assurdo quasi per incapacità di coglierne l'aspetto inquietante sono mutilati dell'aspetto inquietante della vita per fare un esempio di che cos'è l'understatement è quando il famoso ricercatore che cercava Livingstone in Africa era Livingstone quello che si era perso che si era perso cioè era scomparso nel Congo per quattro anni non sapeva niente di lui è partita una spedizione fatta da aristocratici inglesi alla ricerca di questo Livingstone e non lo trovavano finché un giorno uno di questi che andava in giro in Africa però vestito come quei come gli esploratori da commedia e anche il bastone probabilmente dei portatori dietro vede un bianco sotto un albero con un barbone bianco e lo incontra questo alza gli occhi gli occhi velati di lacrime si incontrano questi due bianchi e la battuta è Mr. Livingstone I suppose e questo è un understatement cioè gli è uscito una roba non ha detto sei tu sei tu credo e questo è fantastico cioè è approdato nel mondo del comico uno stile nuovo ed è quello di Friends ed è quello di How I Met Your Mother ed è quello di che cavolo ne so ho visto solo quei due lì però vabbè però sono una scuola incredibile quello è è il comico borghese che cosa ha di buono quasi niente quando abbiamo quando ho costretto Andrea di casa a vedere Friends è andato via dicendo delle parolacce orribili perché ha odiato questi new yorkesi ricchi agiati perché devono essere anche un po' appartenenti poi a una classe che cosa ha guardando questo bicchiere che se guardo solo questo bicchiere mi vuole buttarlo per terra perché sono abituato ad avere dentro di me come dire un rigetto culturale per questo tipo di cose no a me piace moltissimo che a un certo punto la vita delle relazioni fra le persone le tensioni le gelosie le corna il vivere il viver nostro che è così carico di vari pesi compreso appunto quello dei sensi di colpa dei sensi di responsabilità dei pentimenti eccetera eccetera all'improvviso tutte queste parole diventano lievi come il pulviscolo trafitto da un raggio di sole e noi ridiamo di questa liberazione godiamo e ridiamo di questa liberazione perché sappiamo che è assurdo vivere così però questa risata che ci piaccia o no non è importante giustificarla ideologicamente è una risata poetica cioè io credo che nella comicità di Feido come quella di Freyne a differenza di altri comici che ci fanno ridere un po' di più perché magari si toccano fanno le corna oppure la brutta commedia all'italiana a cui noi siamo stati abituati nel tempo a questa marcia in più che il riso che ci propone è lieve è nullo non lo puoi prendere come non puoi prendere il pulviscolo e in questa risata c'è dunque quello che io chiamo un tono poetico certo ci vorrebbero tante parole ci vuole un buon avvocato per sostenere per sostenere la mia tesi però dentro di me me la ripeto perché perché sento che c'è qualcosa di buono in quello che facciamo anche se non sto ancora mettendo la fuoco grazie credo che dobbiamo andare però volevo volevo solo aggiungere che credo che non sia solo la comicità di questo lavoro che ha questa caratteristica che lui ci ha detto è anche il loro lavoro teatrale che è improntato su questa nota cioè e ne fa la sua piacevolezza è un lavoro d'attore di intensità di presenza scenica che è un po' come quella luce attraversata che dicevi prima il pulviscolo un po' anche il loro modo di stare in scena a questo carattere leggero ma insieme molto denso se non ci sono prego credo che loro debbano andare in teatro ma purtroppo dobbiamo andare a farla la cosa di cui stiamo parlando se no basterebbe parlarne si è accennato alla versione cinematografica di rumori fuori scena ma appunto io volevo capire quanto è contato se è contato qualcosa nell'allestimento di un'opera che parla di teatro il film ad esempio così quasi niente sì quasi niente niente io non ho neanche finito di vederlo quindi lei non sa come va a finire tu l'hai visto Fabri? no non ho capito non l'hanno visto dimmi te volevi dire qualcosa? no un segreto quello deve dire un segreto però non è luogo naturalmente per dire segreto sì l'ho visto ha contato qualcosa per esclusione cioè cosa fa Bodganovic Bodganovic trasforma il lavoro di Frane in una commedia americana stile Broadway ok io ne so qualcosa perché passo parte della mia vita in Australia adesso sempre meno che tra poco non più quindi so che cos'è quel tipo di teatro lì io ho visto Rumori Fodicelli in Australia ed è quello che dice Nicola cioè proprio fammi ride fammi ride falle tutte per fammi ride cioè non mollarmi fai tutte sembra fatto dai comici di Zelig ok quella è il target australiano il target americano Bodganovic l'ha trasformato in una Broadway comedy cioè una commedia brillante sempre un po' sexy quelle robe lì dato che io vengo dall'esperienza australiana ho detto vabbè pizzico da lì provo a vedere se riesco a trovare un'ispirazione no perché in realtà non è proprio per niente quello cioè dentro la pièce Rumori Fuori Scena ci sono degli attori che recitano una pièce che si chiama Nothing On questo Nothing On è il risultato di almeno due secoli inglesi di un tipo di commedia che loro chiamano vaudeville ma che è un tipo preciso di commedia che ha in una sitcom precisa che i miei attori non hanno visto perché in Italia non c'è e che invece ho avuto la fortuna di vedere una sitcom primi anni 70 che si chiama Are You Been Served sei stato servito che parla dei commessi in una specie di grande rinascente e lì è il punto massimo però viene questa roba proprio dalla commedia popolare sexy la chiamano commedia sexy perché parla più o meno di corna e di culetti ogni tanto se ne vede qualcuno che è tipicamente humor inglese e non ha quella prorompente aria è orfana di musical l'idea di l'idea di Bodganovich e il personaggio di Michael Caine è stereotipato quindi ho pensato che bisognava dare testimonianza in qualche modo della nostra vita di attori mediterranei sanguigni incazzati alle prese con qualche cosa che è più simile a noi io credo che la commedia Broadway sui palcoscenici italiani non ce la facciamo per adesso non l'abbiamo ancora vista quello stile lì ecco quindi il mio rapporto con il film è stato per esclusione pur avendo a tratti invidiato la libertà che lui aveva di uscire dai muri della scenografia certo quella sì mi scusi mi scusi mi puoi dire solo per quanto avete dovuto lavorare per arrivare allo spettacolo cioè quanto avete dovuto provare abbiamo dovuto lavorare per almeno due settimane in meno di quello che era necessario e che sarebbe secondo me per farlo bene questo spettacolo ci vogliono sei settimane ne abbiamo fatte quattro approfitteremo quindi della pazienza del pubblico nelle prossime due settimane per arrangiarci un po' sì d'altra parte uno spettacolo vive di quelle che chiamiamo repliche ma che sono semplicemente la vita dello spettacolo quindi continueranno a provare diciamo grazie molto e a loro grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti